O Dio! Angelo! Angelo, no, no, ascolta, io devo aprire per forza perché sennò si insospettisce, ok? Tu gli dici che sei il mio cugino, va bene? Eh? Sei qua, vado a aprire. Angelo, ti presento il mio cugino Marco. Guarda, tu non hai cugini? Certo, ho un cugino di secondo grado. Sì, adesso è il cugino di secondo grado, il biscugino laterale di Pescara. Ma dai, ma io in questi due anni tutto quello che ho fatto per te, dai, i guanti gratis, le mascherine gratis, i tapponi gratis, eppure adesso le FFP2 gratis e tu ti presenti con sto coso. Angelo, le esigenze sono diverse, i periodi cambiano, c'è la guerra e quindi... E beh, e io con le mie tre farmacie ti ho dato sempre una stabilità. Tu cerchi la stabilità e io ti ho dato la stabilità, tre farmacie. E tu te presenti con sto coso? Che lavoro fai? Dove te presenti? Chi sei? Marco, per favore dirvi che lavoro fai. Il benzinaio. Il benzinaio. Grazie a tutti.